Ciao, sono Elvira, mi occupo della comunicazione di Castel di Pietra. Sapete che cos'è Castel di Pietra? È un ristorante didattico che si trova all'interno del borgo di Pietramonte Corvino. Ma la nostra idea è quella di non esaurire l'attività del ristorante con la semplice cena che ognuno può venire a gustare nel centro storico. Il Castel di Pietra infatti ha organizzato una rassegna enogastronomica di 12 eventi, tutti ambientati nella bellissima atmosfera medievale del Castello di Pietramonte Corvino. Gli eventi prevederanno sia dei laboratori di cucina, quindi show cooking, per far conoscere meglio i nostri prodotti e quindi valorizzarli al meglio. Ma non ci sarà solo cucina, ci sono previste anche visite guidate sia nel borgo di Pietramonte Corvino, che è uno dei borghi più belli d'Italia, è il riconoscimento della bandiera arancione del touring, ma anche tutti gli altri borghi che caratterizzano questo angolo di Puglia. Oltre alle visite guidate è possibile effettuare anche visite archeologiche presso la cosiddetta sede del diavolo. La meta è un importante evento che si terrà a Pietra e che sarà comunque inserito nel programma del gusto del borgo, dove ci sarà un pellegrinaggio presso la vecchia città di Monte Corvino. Ma non è solo archeologia, è possibile effettuare anche delle escursioni naturalistiche per andare alla ricerca del tartufo, tanto rinomato in tutta Italia e invidiato da tutta Italia e da tutto il mondo. Gli eventi andranno da marzo a dicembre. Il primo evento si terrà il 15 marzo presso il Palazzo Ducale del Borgo. Il tema è la pasta fresca. Attraverso il nostro Mastro Pastaio e i nostri chef sicuramente riuscirete a capire i segreti per ottenere un piatto davvero unico.